Ad Alano di Piave è gara di panettoni. Panetton, ovvero una sfida solidale tra i migliori panettoni artigianali del Veneto, realizzati da circa 60 fra pizzerie, ristoranti e pasticcerie, che hanno messo in gioco il loro panettone tassativamente cucinato in maniera sana e genuina. Sono panettoni fatti con il lievito madre, quindi lievitazioni molto lunghe, con ingredienti di prima qualità, dalla farina al burro, ai canditi, all'uvetta stessa e poi l'assenza di prodotti che sono anche nocivi alla salute, come i monodigliceridi da acidi grassi. Ad aggiudicarsi la semifinale, svoltasi giovedì, la pasticceria Battistuzzi di Conegliano, seguita da Centelghe di Farra d'Alpago e dalla pizzeria Rocca d'Asolo di San Vito d'Altivole. Il panettone è forse uno dei prodotti più noti insieme alla pizza in Italia come dolce di Natale, anche se ormai si sta cercando di sdoganarlo. Cercheremo di individuare il panettone sulla base di alcuni criteri, ovvero la consistenza, la crosta, ovvero il ripieno, ovvero come il panettone è stato realizzato. Abbiamo diviso questa manifestazione in quattro sedi provinciali, 12 circa i panettoni presenti in ogni sfida e 3 i panettoni che arrivano alla finale. L'alta pastizzeria bellunese non ha mai avuto la risonanza che meritava sulle guide gastronomiche, adesso qualcosa si sta muovendo. Oltre ai giurati erano presenti produttori e semplici clienti che hanno votato a loro volta, stilando una classifica definita popolare. La finalissima, durante la quale verrà decretato il vincitore regionale, è prevista per domenica. L'intero ricavato dell'iniziativa sarà destinato alle associazioni benefiche Amici di Adamitullo, che si occupa della scolarizzazione dei bambini in Etiopia, e Cometa, che svolge un analogo servizio in Burkina Faso.